Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, preseduto dal professore Francesco Pira, nei giorni scorsi presso il centro commerciale Città dei Templi di Agrigento, ha incontrato gli alunni degli istituti comprensivi Esseneto di Agrigento, Bessagliere Urso Mendola di Favara e Luigi Pirandello di Porto Empedocle, con i quali ha parlato di pace in questo particolare momento storico. Per l'occasione si è anche proceduto al conferimento dei premi del riconoscimento ai giovani alunni che hanno partecipato al concorso internazionale Lions, un posto per la pace. Sono intervenuti la Presidente della Zona 26, Lions, Maria Antinoro, i soci del club, gli alunni vincitori del concorso nella selezione del club, i dirigenti scolastici, i docenti e le famiglie dei partecipanti. Parlare di pace oggi è importante, ma è molto importante farlo con i ragazzi delle scuole, degli istituti comprensivi. L'abbiamo fatto con i ragazzi degli istituti comprensivi Esseneto, Bessagliere Urso e Pirandello, tre scuole, tre istituti importanti di Agrigento, Favara e Porto Empedocle che hanno partecipato al poster della pace. È stato un momento molto bello in cui abbiamo potuto riflettere sulla pace, ma allo stesso tempo siamo riusciti a incontrare loro per premiare i lavori che hanno fatto, disegni, momenti di riflessione su quello che è la loro idea di pace. Abbiamo trovato dei lavori davvero molto, molto belli e che ci fanno capire come le nuove generazioni hanno un grande senso di solidarietà.